Salutiamo i nostri telespettatori, riprendiamo l'approfondimento della nostra redazione Focus parlando di questioni ambientali, di questioni legate al territorio, sempre nell'ottica e nella prospettiva di migliorare la qualità della vita. Quest'oggi è un Focus allargato a più voci, partiamo così, ricominciamo in questo modo con la presenza del Presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, nonché Sindaco della città di Sarno, il Commissario del Consorzio di Bonifica, Agronocerino Sarnese, che ci ospita per appunto questo primo appuntamento e poi l'ente Parco, importante figura istituzionale, abbiamo la presenza del dirigente dottor Mario Minoliti, una sorta di sinergia perché viene fuori dal protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune, Parco e Consorzio di Bonifica e capiremo soprattutto le finalità di questo obiettivo e poi abbiamo un supporto tecnico dell'ingegnere Daniele che ci supporterà anche dal punto di vista operativo su quello che si sta pensando e si sta realizzando. Ma noi partiamo soprattutto dalla strettissima attualità che ci vede proiettati in un autunno, speriamo, non particolarmente complesso ma che dalle previsioni potrebbe essere difficile. Difficile per tutto quello che ha rappresentato la stagione estiva, la siccità in primis, gli incendi subito dopo. Sono tutte cause che potrebbero preoccupare non poco gli addetti ai lavori. Ecco che nasce questa sinergia importante innanzitutto ai fini della prevenzione. Ne parliamo proprio con il commissario del Consorzio di Bonifica, un ente che va sicuramente rivalutato soprattutto nella prospettiva di garantire sicurezza da tutti i punti di vista del territorio stesso. Come siete impegnati in quest'opera di prevenzione, Avvocato D'Angelo? No, noi siamo l'ente interprovinciale, quindi siamo presenti su tutto il territorio. Quindi quando ci sono piogge o manifestazioni di esondazioni, siamo l'ente che siamo interessati immediatamente. Molti sindaci ci chiamano di intervenire, nell'opera di prevenzione che facciamo quotidianamente con l'ordinaria manutenzione. Quindi quello che chiediamo è quello che stiamo facendo già sul territorio, con i mezzi a disposizione che non sono molti, vista la notevole difficoltà economico-finanziare in cui comunque ancora verso l'ente sta andando verso una condizione di normalità, quindi in condizioni di bilancio eccetera, ma abbiamo ancora una situazione deficitare di deficit annuale che non ci consente di poter acquistare o di porre in essere gare per acquistare nuovi mezzi. Quindi chiediamo ai funzionari regionali e alla regione campagna di fornirci questi mezzi in comodato gratuito o in qualsiasi altro modo, in modo da poter consentire di essere utili al territorio e fare prevenzione e ordinaria manutenzione che già facciamo. Intanto c'è comunque, vale la pena dirlo, un'organizzazione dal punto di vista degli uomini, delle squadre presenti sul territorio che sta programmando, che ha programmato e che già all'opera per prevenire eventuali, da scongiurare sicuramente, fenomeni atmosferici che possono influire poi sui nostri corsi d'acqua. Eh certo, questo stiamo intervenendo, basta vedere qua, ci sono due book che abbiamo fatto sui interventi che abbiamo fatto sul comprensorio alto e basso, si vedono dalle foto tutti gli interventi degli ultimi quattro mesi fatti dai nostri operai e dai nostri tecnici ingegneri sul territorio, da Montoro a Solofra, a Sarno, a Scafati, a Nocere, eccetera, per indicare soltanto tra i comuni più importanti dove si fanno gli interventi più importanti di manutenzione. Ecco, Sindaco, un protocollo d'intesa che avete voluto siglare, innanzitutto come comune di Sarno, per cercare di fare squadra in un momento difficile e che preoccupa non poco, visti i cambiamenti climatici che si registrano negli ultimi anni? Certamente, certamente, è alla luce dei cambiamenti climatici, di una meteorologia che ci avvicina ai paesi subtropicali, perché la verità è questa, insomma, temperature elevatissime d'estate, oltre i 39 gradi, in una Italia dove non si erano mai registrate temperature così elevate, incendi boschivi. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, che quest'estate siamo stati oggetto di un attacco da parte della malavita organizzata. Oramai credo che sia chiarissimo, insomma, non si è trattato assolutamente di incendi dolosi, ma si è trattato di attacchi da parte di incendiari. Insomma, le prove oramai sono talmente evidenti che l'Italia, e soprattutto l'Italia centro-meridionale, è stata sottoposta a un attacco incrociato. 6.000 ore di fuoco, 6.000 ore di fuoco in tre mesi, è l'equivalente di quello che è successo nel 2005-2006, però in un arco temporale molto più ampio, cioè in 12 mesi. Nel 2017 noi abbiamo consumato 6.000 ore di fuoco, l'equivalente del 2005-2006, in soli tre mesi. Il dissesso idrogeologico è la partita del futuro, nel senso che sono già disponibili fondi europei per circa 32 miliardi di euro, e nel periodo 2017-2020 sono disponibili tra i 7 e i 10 miliardi di euro, per cui si capisce magnificamente perché l'Italia è stata sottoposta agli incendi. Quindi se qualcuno non aveva ancora, non aveva ben realizzato, non aveva capito, la partita del futuro da parte della malavita organizzata si gioca sui fondi europei, si gioca sul dissesso idrogeologico. Insomma, abbiamo un quadro di una malavita che è organizzata molto prima delle istituzioni, le notizie passano prima da loro, prima i rifiuti, e quindi questo grande business che ha rappresentato sicuramente un momento mortale, un colpo mortale per il mezzogiorno, ma per la campagna in particolare, ed ora arriva il dissesto idrogeologico provocato. C'è la mano dell'uomo e c'è ovviamente la natura che fa la sua parte. Aggiungo, ma proprio perché gli uomini di buona volontà, le persone serie e per bene, capiscono tutto ciò, devono far fronte, perché sicuramente in una situazione di questo tipo sottoscrivere protocolli di intesa tra istituzioni rappresentano una barriera a chi vuole interpretare o intendere il dissesto idrogeologico in una maniera diversa. Il comune di Sarno è sicuramente da portare un po' ad esempio, perché soprattutto è l'esempio che quando si imbecca la strada giusta e in particolare, in fattispecie, mi riferisco alla prevenzione, tutto può essere superato anche con una risposta immediata sul campo, perché poi alla fine la sua città è stata interessata, ma in maniera sicuramente minore rispetto ad altre realtà che si sono trovate impreparate. Ma noi le opere realizzate negli anni dopo il tragico 1998 sono opere idrauliche di mitigazione del rischio passivo che oggi dimostrano la loro funzionalità. È chiaro che quelle opere idrauliche tra vasche di laminazione e alve che fanno confluire le acque nelle vasche di laminazione, è chiaro che avevano ed hanno lo scopo fondamentale di ridurre il rischio idropluviometrico con un'azione passiva. Certo, tutte le azioni attive quali sono? Le azioni attive sono rappresentate dal rimboschimento, sono rappresentate da opere di ingegneria biotecnologica, di ingegneria naturalistica, sono rappresentate dalla manutenzione ordinaria di cui parlava prima il commissario straordinario, l'avvocato Rosario D'Angelo. Mi faccio spezzare una lancia nei confronti, anzi più di una, perché da quando l'avvocato D'Angelo è commissario di questo consorzio, lui ha avuto non soltanto la lungimiranza di avviare quest'ente alla parità di bilancio, alla bonifica del bilancio, per cui non è un'operazione semplice sanare i nostri consorzi di bonifica, ma tra l'altro ha avuto l'intelligenza, la lungimiranza di costruire insieme ai tanti comuni, perché qua non si tratta soltanto del comune di Sarno, il consorzio di bonifica opera da Sarno fino a Castellammare di Stabbia, tanto per intenderci, e tra l'altro anche l'intelligenza di costruire dei rapporti all'interno del consorzio, con i suoi operai, con la sua dirigenza e all'esterno del consorzio con i tanti comuni di sinergie. Non è un caso che qui c'è anche il parco regionale del fiume Sarno, che in questo momento non c'è un direttore, ma c'è il dirigente, il dottore Minoliti, che insieme, ente parco regionale del fiume Sarno e consorzi di bonifica abbiamo fatto un'operazione di filiera e di ottime pratiche amministrative. C'è la parte repressiva, c'è la parte controllo repressivo, c'è la parte manutenzione, c'è il comune che con la protezione civile fa la sua parte. Io credo che questa operatività e questa sinergia si esplicita localmente su un territorio vasto. Ricordiamo che il comune di Sarno è il secondo territorio di comune per estensione per quanto riguarda la provincia di Salerno, quindi non è che stiamo lavorando su un territorio semplice, su un territorio facile, però da parte dell'ente parco c'è un'azione di controllo, che è un'azione efficace, perché il dottore Minoliti nel giro di pochi mesi non soltanto abbiamo multato circa 56 reati contro l'ambiente, perché qua parliamo di riati contro l'ambiente. Insieme al Consorzio abbiamo iniziato da due anni a questa parte un attento monitoraggio e un'attenta manutenzione delle opere idrauliche che sono state realizzate. Sarno è un mirabile reticolo superficiale di acque che arrivano fino al fiume Sarno. È normale che se noi dalla fascia pedemontana riusciamo a far confluire le acque, a mitigarne la velocità, a raccogliere il materiale che viene giù dai monti, soprattutto dopo gli incendi, è logico che tutta questa regimentazione, eliminazione nelle vasche del materiale che viene giù dalla montagna, noi non soltanto diminuiamo la velocità delle acque, ma riusciamo anche a coinvolgere in maniera tranquilla nel fiume Sarno. Noi ci siamo ritrovati già a metà agosto con quella bomba d'acqua che venne giù a metà agosto e lì abbiamo avuto un'esondazione, ai primi di agosto abbiamo avuto un'esondazione per quanto riguarda il rio Fusci. Devo ringraziare anche il genio civile, il dottor Biagio Franza. Io voglio dire che è mai come in questo momento, si è realizzata una filiera corta, una rete insomma. Una rete che ci vede tutti quanti compatti in un'azione di monitoraggio, di controllo, di repressione e di manutenzione. E dunque io volevo riallacciarmi proprio a questo aspetto che è quello legato all'attività dell'uomo. Parlavamo di inizio trasmissione di qualità della vita, di miglioramento della qualità della vita e sicuramente questo passa per un senso di civiltà, un senso civico dei cittadini stessi. Ovviamente per arrivare a tutto questo a volte sono necessari degli interventi non tanto di prevenzione quanto di sanzionamento. È per questo che il Consorzio ha emanato un nuovo regolamento che prevede un inasprimento delle sanzioni per quei cittadini che non rispettano il nostro ambiente, vero, Avvocato? Sì, agganciandomi a quello che diceva il Presidente, il Sindaco di Sanno, il Presidente della Provincia sul fatto di lavorare in coordinamento con gli altri enti e quindi con l'ente Parco sulla funzione della repressione. Noi abbiamo fatto la nostra parte con un nuovo regolamento per quanto riguarda le concessioni idrauliche. Ricordando che la nostra competenza è soltanto sulla portata idraulica all'ente, però abbiamo fatto un qualcosa in più aumentando le sanzioni di chi non rispetta queste prescrizioni da parte degli uffici tecnici del Consorzio. Quindi abbiamo quintuplicato le sanzioni, abbiamo inasprito, quindi aumentato la funzione di quella che è la Polizia Idraulica. Oggi sul sito c'è il numero verde della Polizia Idraulica. A qualsiasi cittadino si può rivolgere e quindi segnalare e verificare se ci sono scarichi illegali o che sversano diversamente nei nostri canali e nelle nostre proprietà consortini. Quindi abbiamo inasprito e aumentato l'attività di controllo e di verifica sul nostro compensatore da parte delle nostre guardie idrauliche e a livello regolamentare. E in rapporto anche con gli enti, sia il Comune di Sarno, come diceva prima il Sindaco, ma anche con l'ente Parco e il Dottor Minoliti che ci ha molto spesso aiutato, coattivato, indirizzato su alcuni controlli che abbiamo fatto. E devo dire che questo deve servire anche, lo facciamo con tutti i comuni, ma il rapporto che abbiamo creato con l'ente Parco e col Comune di Sarno ci ha consentito di poter scovare, verificare e segnalare molte attività e sversamenti illegali presenti sul nostro compensatore. Il Comune di Sarno ha oltre 42 km quadrati di territorio, quindi è enorme, ma noi siamo presenti e cerchiamo di fare al meglio quello che possiamo. Questo è stato un po' un deterrente. Sì, credo di sì, perché adesso sanno che ci sono molti enti che controllano di più, non soltanto demandare a quello che è l'autorità giudiziaria, quindi la magistratura o i carabinieri del 9, ma sanno che ci sono anche gli enti con sanzioni amministrative, con segnalazione alla Procura, eccetera, quindi comuni, consorzi in questo caso o ente Parco che vigilano e verificano. Ecco, ente Parco, vediamo la funzione che comunque è una funzione importante, a volte dottore Minoviti si dice che ci sono degli enti inutili, sicuramente dipende da come vengono visti, da come vengono fatti funzionare e da come vengono gestiti. L'ente regionale del Parco del fiume Sarno ha sempre avuto un po' un ruolo di cenerentola, se non altro perché gestito in maniera non, diciamo, di intervento, di ausilio agli altri enti. Adesso con una sinergia importante che si è avviata e con tante altre che probabilmente ce ne saranno, si capirà meglio come risulta strategico il ruolo dell'ente Parco, perché, lo ricordiamo a tutti, quello del fiume Sarno è un parco regionale importante. Certo, è l'unico parco fluviale, tra l'altro, a livello regionale. Come diceva lei, ogni struttura, ogni ente è fatto da persone, quindi l'immagine che viene poi portata all'esterno dipende proprio dalla capacità di queste persone nel dialogare, nel confrontarsi, che è quello che diceva pure prima il Presidente e il Commissario, tra l'altro, cioè raccordarsi tra enti per perseguire un obiettivo comune, obiettivo che in questo caso è rappresentato dalla tutela del territorio, per cui i tre enti insieme hanno messo insieme una serie di sinergie proprio finalizzate a capire quali potessero essere le azioni più concrete, quindi sicuramente attività di controllo del territorio, perché dal 2015 sono in servizio presso l'ente Parco, abbiamo avviato prima di Comune Accordo una serie di azioni di informazione, perché, come diceva lei, fino a quel punto probabilmente lo stesso ente Parco non era ben conosciuto tra non solo i cittadini, ma anche con alcune amministrazioni un po' più distratte, potremmo dire così, e quindi con questa serie di intesi, di incontri e di colloqui sono stati fissati degli obiettivi che proprio nella collaborazione che diceva prima il Presidente sul Comune di Sarno e insieme al Consorzio abbiamo focalizzato, quindi dicevo avvio di un'attività di controllo del territorio tramite anche una serie di protocolli di intese e convenzioni con un'associazione appunto Accademia Cronos che è presente a livello provinciale sul territorio, che ha messo a disposizione il proprio personale, sono 15 guardi giurate volontari che nel caso del Comune di Sarno sono state anche nominati ispettori ambientali e che su questo territorio che ha, come dicevo prima con lei, appunto anche guardando le immagini del calendario, luoghi ancora oggi preservati, molto belli e per i quali veramente vale la pena di combattere per salvaguardarli e per far sì che tutto il fiume Sarno ritorni a questo splendore appunto di queste immagini che vediamo, che sono relative ad alcune immagini delle tre sorgenti in particolare. E sono ancora incontaminate questo? Sì, risultano in buona parte ancora non contaminate, soprattutto illeciti smaltimenti oppure scarichi abusivi, però il lavoro da fare è sicuramente ancora molto e lungo, però questo aspetto che noi abbiamo focalizzato prima, cioè questa intesa e questa serie di importanti collaborazioni traenti ha dato appunto la linea da seguire, quindi un modello che sicuramente poi piano piano anche con l'ausilio del Presidente Canfora cercheremo di esportare nelle altre amministrazioni proprio perché questo è il giusto percorso, prevenzione, ma dove è necessaria anche repressione proprio per evitare questi problemi legati ai rifiuti ma anche agli incendi che come diceva prima il Presidente quest'anno purtroppo hanno visto un po' tutta Italia, ma in particolare la Regione Campania, un attacco non solo al territorio ma anche alle stesse aree protette della Regione Campania con danni che sono difficilmente quantificabili perché noi magari siamo sempre portati a quantificare il danno dovuto allo spegnimento senza valutare quello che è la perdita dell'ambiente, la perdita di ogni cittadino di verde ma poi i danni dovuti alle strutture, agli immobili, alle persone che in alcuni casi purtroppo sono rimaste coinvolte negli incendi. Vediamo quanto importante è l'opera di prevenzione che si riesce a realizzare e di fronte a determinate situazioni di emergenza, anche quelle che denunciava poco fa il Sindaco di Sarno che sono raccapriccianti rispetto al ruolo che ha avuto la criminalità soprattutto in questa estate calda da tutti i punti di vista, importante è la sinergia insomma fare squadra, rimanere uniti, l'Unione fa la forza per fronteggiare situazioni di emergenza il vostro è un esempio comunque da seguire perché siete riusciti comunque a limitare i danni rispetto ad altri territori che invece sono stati completamente distrutti e che devono ricominciare da capo. Sicuramente, riprendendo quelle che erano alcune affermazioni fatte qualche settimana fa in un convegno che si è tenuto a scafare, quello che in effetti ha dichiarato il dottor Giancarlo Russo per questi territori è fondamentale la presenza costante delle amministrazioni e come dicevamo prima, Consorzio, Comune di Sarno e Niente Parchi in questo caso stanno sviluppando questo modello, la conoscenza del territorio ma poi ci vuole una presenza costante e qualificata perché siamo in una fase in cui la sola prevenzione non è più sufficiente e quindi se vogliamo riconquistare il territorio e riconsegnarlo ai cittadini che è il dovere di ogni amministrazione, credo proprio assicurare questo c'è bisogno di sviluppare e potenziare questo tipo di modello essere presenti sul territorio, non mollare la presa e riconquistare metro a metro appunto quello che ancora di buono c'è e quindi cercare di fare il possibile per raggiungere questo obiettivo Un modello, Sindaco, da esportare questo che avete utilizzato voi questa necessità di creare sinergie con gli enti preposti insomma non siamo di fronte ad intese tanto per ma ognuno ha un suo ruolo, ognuno ha un compito preciso con l'obiettivo di tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità della vita Questo è il risultato finale Certamente la repressione non tocca a queste amministrazioni a queste istituzioni praticarla perché la repressione tocca alle forze dell'ordine come è giusto che sia però certamente il controllo e la prevenzione tocca anche a noi tocca all'amministrazione comunale, tocca all'ente parco tocca anche in misura forse indiretta al consorzio di bonifica ma se non vorrei che però passasse un concetto errato il consorzio di bonifica e l'ente parco hanno un'azione su un territorio vasto che continua cioè nessun comune viene dimenticato vorrei chiarire questo perché può sembrare che il protocollo d'intesa abbia sottratto ore di lavoro a qualche altro non è così quindi cerchiamo di chiarirci perché nel dossier presentato dal consorzio di bonifica è un dossier accurato, profondo e vengono tutelati tutti i comuni poi questo protocollo d'intesa serve in sinergia ancora meglio a tutelare, a prevenire e a manutenere le opere perché? Perché c'è il parco, c'è il comune ma il comune c'è con i suoi uffici comunali soprattutto con gli uffici tecnici con l'ufficio urbanistica, con l'ufficio ambientale ma c'è con la protezione civile c'è con un'associazione di uomini e persone che tra comune ed ente parco hanno un'azione di controllo e di repressione l'associazione Cronos che ha ispettori ambientali sono anche autorità giudiziaria tutto ciò serve anche indirettamente ad aiutare le forze dell'ordine quindi c'è una magnifica sinergia in sintesi, voglio sintetizzare perché può sembrare ognuno per le proprie competenze se mettiamo insieme queste competenze sicuramente l'azione amministrativa è un'azione amministrativa migliore e più efficace tutto qua, nulla di trascendentale però è chiaro che ognuno deve in maniera responsabile sentirsi attore e per le proprie competenze risolvere quel problema insieme sicuramente ci riusciamo meglio competenze, conoscenze dal punto di vista della politica del territorio ma anche conoscenze tecniche specifiche bisogna mettere mano anche a una pianificazione ingegnere Daniele che possa realmente poi raggiungere l'obiettivo che è quello della prevenzione del territorio insomma tutelare il territorio per evitare disastri che poi porterebbero chissà dove certamente, diciamo che l'anutenzione gli interventi di manutenzione sono estremamente importanti perché assicurano una certa ufficiosità tutta la rete scolante, diciamo comprensoriale ricordiamo che il consorzio interprovinciale provincia di Salerno, Avellino, Napoli e 35 comuni fanno parte del consorzio ma è estremamente importante anche sono interventi di natura strutturale ovvero questo comprensorio purtroppo ha bisogno di forti interventi per ridurre l'elevato rischio idraulico che non può essere annullato soltanto grazie ai interventi di manutenzione che pure sono importanti ma occorre realizzare delle importanti opere di prevenzione che vanno realizzate ovvero delle nuove vasche di laminazione degli adeguamenti dei punti critici dei corsi d'acqua principali che oggi non sono in grado di smaltire portate di piena poco più che ordinarie e quindi rendono il territorio estremamente vulnerabile e quindi anche i beni che sono presenti nelle vite umane sono soggetti a un determinato grado di rischio che noi dovremmo cercare di eliminare completamente o per lo meno di ridurre quanto più è possibile il consorzio di bonifica comunque va ricordato rivestirà sempre un ruolo di coordinamento anche dal punto di vista tecnico quindi della progettazione tecnica nell'opera di prevenzione Certamente il consorzio si è dotato di un parco progetti abbastanza importante che tende a che qualora questi progetti venissero finanziati dalla regione campana perché dobbiamo ricordare che il consorzio con i proventi dei tributi può eseguire soltanto la manutenzione ordinaria mentre invece gli interventi strutturali vanno finanziati dalla regione ci sono apposti di finanziamenti adesso diciamo che ultimamente abbiamo completato i lavori della vasca Pignataro che è entrata in funzione e quindi riduce in materia considerevole il rischio idraulico a questo oggetto il comune di Pagani perché intercetta il bacino a monte e quindi le acque oggi non lo spagliano più per strada ma vengono raccolte in questa vasca Quindi quella vasca che è a monte lo ricordiamo è già operativa? Operativa come pur la difesa la difesa del territorio di Sant'Egidio a monte sono state eseguite opere delle briglie, delle grosse miglie ciclopiche in gabbioni di pietrame che proteggono l'abitato il centro storico di Sant'Egidio da eventuali pericoli di colate, laviche o di alluvioni Cosa manca al completamento? Al completamento manca semplicemente una condotta che è troppo piena della vasca Pignataro che raccoglierà anche le acque di ruscellamento delle grosse alve strada che dalla vasca Pignataro arrivano fino al comune di Sant'Egidio a Montalbino ecco questa è un'opera che bisogna dire che è stata finanziata da Regione Campania perché è un'opera non di manutenzione ma è un'opera strutturale Vediamo, c'è la parte tecnica ovviamente ci deve essere la volontà anche politica Eudora, io sento dall'altra veste di Presidente della provincia di Salerno quindi con maggiore autorità istituzionale probabilmente quanto la Regione è vicina ai nostri territori Ma la Regione è sicuramente vicinissima ai nostri territori basta annoverare tra le leggi che sono state fatte in questi due anni la legge sul ciclo integrato delle acque la legge sul ciclo integrato dei rifiuti quindi sono state messe in funzione delle leggi che non c'erano e che oggi sono sicuramente c'è una legge sui reati ambientali non ci si è riusciti inoltre una legge del governo nazionale sui reati ambientali non c'era prima cioè io voglio ricordare ai nostri telespettatori che i reati ambientali venivano puniti con un'ammenda che andava da 500 mila lire fino a un milione e in euro andavano con poche decine di migliaia di euro insomma io vi ricordo che tutti i trasporti sui rifiuti quelli nocivi che venivano interrati che venivano abbandonati lì dove praticamente la malavita organizzata si è letteralmente arricchita ma quando questi trasporti venivano fermati molte volte venivano venivano multati con una mente irrisoria rispetto al guadagno che questi personaggi facevano soltanto portandoli da una parte all'altra dell'Europa o addirittura dell'Italia quindi una legge di questo tipo è una legge importante però adesso l'agro chiede attenzione e sensibilità alle progettazioni che mette in campo perfetto e ritornando ai progetti esecutivi sul dissesto idrogeologico noi abbiamo questi appostati dalla parte dell'Europa tantissimi fondi cioè la regione Campania è stata una delle poche regioni d'Italia a istituire il fondo di rotazione noi ci siamo candidati certo sicuramente sarà rifinanziato perché i soldi appostati sono stati insufficienti rispetto all'amore di progetti che sono stati presentati ma c'è una volontà da parte della regione Campania a rifinanziare il fondo di rotazione quindi tantissime opere che sono state presentate saranno sicuramente finanziate che riguardano anche il dissesto idrogeologico certamente e concludo la filiera istituzionale sta funzionando noi come comune e come consorzio al di là delle opere strutturali che sono fondamentali le vasche di laminazione il ruscellamento delle acque lì ci vogliono delle opere che devono essere finanziate ma per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e le apparecchiature queste sono indispensabili cioè sono indispensabili le apparecchiature per far sì che la manutenzione ordinaria venga fatta rapidamente e velocemente non certamente con mezzi che sono oramai di antiquariato insomma ci sono ci sono veicoli che possono alla bisogna servire a pulire rapidamente una vasca di laminazione a pulire rapidamente un alveo pieno di cespugli insomma questo è e poi c'è bisogno di appostare delle economie che non sono grandi economie cioè noi parliamo di 500.000 600.000 euro per la manutenzione ordinaria degli alve e delle vasche di laminazione non mi sembrano insomma e con gli uomini del consorzio con gli uomini dell'ente par con gli uomini della provincia perché noi chiediamo di poter lavorare cioè noi vogliamo lavorare la provincia dopo il referendum ma a pieni poteri è incardinata nella Costituzione e può tranquillamente svolgere quello che già faceva prima lo può svolgere ancora meglio un solo ruolo di coordinamento né più né meno la provincia svolge questo ruolo il consorzio di bonifica invece programma è al lavoro sicuramente non sta a guardare rivendicando quel ruolo che lei è proprio e che è utile al territorio si riallacciandomi a quello che diceva il sindaco e il presidente cioè sul fatto dei macchinari è importante programmare come noi facciamo sempre l'ordinaria manutenzione per fare questo abbiamo bisogno di mezzi moderni noi abbiamo presentato al dottor Palmieri dell'ambiente delle richieste su un finanziamento anche di un macchinario semplice c'erano molti consorsi del nord la sola diciamo utilizzo da parte del consorzio consentirebbe una manutenzione su tutto il comprensione molto più rapida ed efficace soprattutto è stata mandata una PEC sempre dottor Palmieri sui nostri progetti e i nostri dotazioni di mezzi i consorzi i tecnici e i consorzi hanno risposto prontamente elencando i progetti che abbiamo con molti comuni tra cui il comune di Sarno eccetera e su questo chiediamo appunto un'attenzione dell'ambiente affinché ci possa dare incomodato gratuito o qualcosa dei mezzi che consentirci una più efficace manutenzione sul territorio voglio richiamare che noi la manutenzione ovviamente qui è presente il comune di Sarno ma la facciamo su tutto il comprensorio che consta di ben 36 comuni quindi non trascuriamo nessun comune in questo ripeto con i mezzi limitatamente quelli che abbiamo abbiamo pochissimi mezzi e anche vetusti possiamo dire perché purtroppo le economicità critiche del consorzio non ci consentono di fare implementazione abbiamo molti operai abbiamo un centinaio di operai che dispieghiamo al meglio su tutto il territorio soprattutto sulla parte bassa che è più soggetta diciamo sia ad alluvione e ad esondazione Io direi che possiamo chiudere qui ecco questo è quello che produce il territorio quest'area nord della provincia di Salerno che necessita ovviamente di un'attenzione forse anche maggiore faccio mia questa richiesta alla regione Campania perché è una fetta importante del territorio regionale una fetta che va tutelata va salvaguardata se non altro per la densità di popolazione per essere la porta d'ingresso d'accesso della costiera amalfitana e della stessa provincia di Salerno che poi si estende fin giù fino al confine con la Basilicata e la Calabria quindi rivendicare un ruolo è importante soprattutto nell'ottica di migliorare la qualità della vita delle popolazioni grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi grazie al Presidente al Commissario del Consorso di Bonifica Avvocato D'Angelo per averci ospitato qui alla prossima grazie a tutti